Picchiaduro Antrimon su Quanto Renna che tiene, Christensen, Sander, difesa di Marra, punto di Davide Marra, scusate se urliamo in questo modo ma è arrivato a un punto direttamente dalla difesa di Davide Marra sul 10-12, gran punto questo di Marra. Gran difesa, ovviamente in questi casi c'è anche un pizzico di fortuna ma che difesa di Marra su Sander.